Si chiama Mohammed Zammar ed è il jihadista arrestato a Deir Ezzor dalle forze kurde in Siria, terrorista di altissimo profilo e un cittadino tedesco di origini siriane. Dopo l'affiliazione d'Al Qaeda entra nella cerchia dei fedelissimi di Bin Laden, a lui il compito di reclutare alcuni degli attentatori dell'11 settembre in Germania. Tornato nel suo paese d'origine per volontà della CIA, è rimasto in carcere fino al 2013, quando beneficiando di un'amnistia voluta da Assad è tornato in libertà. Passato alle fila dello Stato Islamico a Raqqa è diventato poi reclutatore per conto del califato in Siria, Egitto e Iraq.